Ciao a tutti! Allora, visto che nel sondaggio ho vinto un unboxing dei prodotti in omaggio dati alla prima lezione del corso prefatto, vi lascio il video in IGTV. Un bacio, buona visione, ciao! Se vi piace il video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Grazie! La mia prima valigia. Il primo viaggio è quello verso casa. I miei primi ricordi sono qua dalle, dal giorno. Mi chiamo, il mio peso è, il misuro, i miei capelli sono, i miei occhi sono, la mia mamma si chiama, la mia mamma si chiama. Troviamo la bustina della Pumperz. E dentro ci sono due pannolini Pumperz Progressi, due mini da 3-6 kg. Poi abbiamo un volantino con 50 punti in omaggio. Praticamente si scarica l'app e si visita il sito Pumperz.it e carichi i codici sconto che trovi nelle confezioni. Ad ogni codice corrisponderà un certo numero di punti in base al prodotto acquistato. Accogli i punti e scegli fino a due premi. Poi si può partecipare all'emissione e accogli i punti extra. Qui troviamo poi 12 salviette Body Fresh, sempre della Pumperz e un adesivo, credo sia per la macchina. Poi ci sono le 60 maxi salviette igienizzanti Napisan, con il potere sgrassante, per igienizzare e rimuovere batteri e germi da tutte le superfici. Poi abbiamo due rischetti per il seno, per i capezzoli. Poi ci sono una serie di volantini. Mamma ha questo libero al fianco delle mamme fin dal suo primo respiro. Mamma ha il naso chiuso. La scoperta passa anche dal naso, come funziona il suo nasino, mantenere il nasino in salute, le soluzioni insaline, la tela di aerosol, lavaggio e aspirazione, come pare. e vari prodotti libera, consigli utili sul nasino e dintorni. Poi abbiamo un volantino Napisan, un volantino Pinigi, con una labella di conversione calide. Ok, e le varie informazioni sui piedini. Questo è un V Baby Agath, quindi il volantino della Vodafone. Ok, e questo è un volantino per lo screening neonatale esteso, perché è importante scoprirlo con generale uno Stilton. E poi, insomma, è un volantino informativo. Questa è la prima scatola. Passiamo alla seconda. Il sacchettino Mostela. Vediamo cosa contiene. Abbiamo un campioncino da viaggio Hydra Bebe Body Lush. Poi abbiamo gel, questo cos'è? Iron Body. Ok. Quindi penso sia un gel doccia. gel doccia. E poi abbiamo crema balsamo per, credo, l'igiene del bambino. E poi c'è un volantino, un algoritmo di una Mostela che rappresenta, appunto, tutti i prodotti disponibili per il cambio, per la pelle di tendenza atropica, maternità, eccetera. Quindi anche questo abbiamo visto. Poi abbiamo un sacchettino della Philips Avant. E vediamo, dentro c'è un contenitore per la conservazione del latte materno. Vi faccio vedere. Poi, cosa abbiamo qui? Un ciuccio. Abbiamo un volantino Avant, Philips Avant. Come adattare al seno, cosa succede quando adatti al seno, la giusta posizione, attaccarsi al seno. Comunque qui ci sono tutte le informazioni, tutti i dubbi e le domande più frequenti per l'adattamento. Poi abbiamo il primo sacchettino, questo arancione. Abbiamo un altro sacchetto Pampers Progressi. Dentro c'è un volantino della Pampers. Penso che sia come quello di prima. E un pannolino questa volta. Newborn 2,5 kg. L'altro è il numero 2. 2,6 kg se non si voglio, 3,6 kg. Poi abbiamo una serie di volantini. Le Bebè. Nabizam. Poi abbiamo una rivista Dolce Attesa. Poi la vedremo. E questo è un volantino della Vericure. Dovrebbe essere una retta di sicurezza, di esperti in sicurezza. E poi abbiamo una salviettina all'ultisuperficie igienizzante della Nabizam. E questo è l'ultimo sacchetto della mamma. Benvenuto al mondo da mamma. Vicino al tuo bambino, sono dai primi istanti. Welcome kit. Vediamo. Dentro ci sono una serie di... Questo sconto è del 20%. Questo è un'informativa sull'uso corretto dei succhietti, dei succi. Poi questo credo sia per alleviare le coliche, ma assaggi di yoga. Molto importante. E il catalogo 2019 della mamma. Quindi vediamo qui tutto il catalogo. Ok. E poi abbiamo... Un biberon. Un biberon. Per i primi mesi credo, non so. Un biberon. E dentro il biberon c'è il ciuccio. Ok. Non so come funziona bene questo biberon, ma va bene. Comunque il biberon e il ciuccetto della mamma. E poi l'ultimo sacchetto. Vediamo un po'. C'è il sacchetto della Lip. Benvenuta mamma. C'è una serie di volantini anche qui. Aspettate. Ok. Qua ci sono una serie di... C'è il buono sconto di 2€ valido per l'acquisto di un prodotto hip baby gel detergente. Poi... Poi abbiamo un altro sacchetto Pampers. Con altri due pannolini numero 2. Quindi 3-6 kg. Nella linea Progressi. Poi abbiamo 2 buoni sconto da 1€ sui vari pannolini. Altri salviette. 12 salviette body refresh. Un altro volantino. Un brochure sui pannolini. E un altro adesivo per la macchina. O comunque sì. Bimbo bordo per la macchina. Poi... Poi poi poi... Vediamolo un po'. Abbiamo... La brochure Lichtena. Con un buono di 6€ per l'acquisto del formato da 100 ml. Quindi per la Lichtena crema. Ok. Poi abbiamo un'altra brochure Napical. Un'altra brochure Libera. Che credo sia come quella di prima. Esatto. Una rivista. Io e il mio bambino. Salute a mille. Nuovi test di dolce attesa. Influenza. No grazie. Ok. Scusi. Vabbè. Una rivista per bambini. Cioè per le nuove nascite. Poi abbiamo un'altra servetta multi superfici igienizzate. del naso. E questo è la confezione di traflaconcini. Soluzione fisiologica sterica. Per l'igiene quotidiana del naso. E aerosolterapia. Nella Libera. Poi abbiamo un campioncino di Sena crema. Per adulti e bambini. Abbiamo altri due dischetti nursing pad. Quindi per i capelli di soli. Non era fatta di essere interrotto automaticamente il video. Ma comunque l'ultimo gadget era appunto questo. parla sulle delle elevezze. Chi ti propongono di sottoscrivere una polizia assicurativa. Posta per questo. E ti danno in omaggio il dispositivo tipico. E questo è tutto. Poi. Poi.